Nel testo di commento del Catechismo di San Pio X si legge una simpatica parabola che ha tutti i sapore dei giorni nostri, della modernità. Racconta la processione dei ladri. Vengono nominate ben 29 categorie di ladri chiamate compagnie. Ladri di strada, di campagna, di chiesa, eccetera. Riguardo ai ladri in guanti gialli, la società, questi signore che li tiene a piede libero, si legge una simpatica strofetta. Nei tempi barbari e feroci i ladri si appentevano alle croci. Ora che siamo in tempi più leggiadri, si appendono le croci in petto ai ladri. E così vengono premiati con gli onori della società, con la medaglia al petto. Entriamo però in argomento. Una delle piaghe che tormenta di più la società di oggi è l'usura. Si parla poco dell'usura. E invece è una delle piaghe che porta la rovina nelle famiglie e fa piancere i poveri. Perché l'usuraio non bada se colui che riceve il prestito è bravo, meno bravo, quel che sia. A lui interessa il guadagno che lui soffre e che sia male. A lui, all'usuraio, non interessa. Alla somma stabilita della legge si spinge il bisogno sempre più nella miseria. quindi il poveretto va sempre più nella miseria. Il pagamento delle tasse è un diritto dovere in forza del bene comune. L'evasione fiscale non è giustificabile perché ricade a danno degli altri cittadini. Capisco che questo argomento è un pochettino scabroso e anche che non sembra piacevole. Però è bene che una volta tanto prendiamo coscienza di quelli che sono i nostri doveri. Avere rispetto per tutta la natura che Dio affida all'uomo per il suo bene, tenendo presente che l'uso delle risorse minerali, vegetali e animali non può essere separato dal rispetto delle esigenze morali. Gli animali sono creature di Dio e quindi bisogna essere benevoli verso di loro. È indegno per l'uomo non destinare somme per sollevare la miseria degli uomini. Il settimo comandamento impone un obbligo molto contestato, cioè l'obbligo di chi ha rubato è tenuto alla restituzione. È chiaro che quando si va in confessione questa accusa facilmente non si dice sfugge, ecco usiamo questo termine, sfugge, però si sappia molto bene che coloro che si sono appropriate di cose non proprie sono tenute alla restituzione. A ognuno il pane quotidiano.